Intervitato dal Corriere della Sera, Flavio Briatore ha concesso una delle veramente rare dichiarazioni mai spese a proposito di Leni. Si tratta nello specifico della bambina nata dalla sua relazione con la famosissima modella Heidi. Clum, quando la piccola venne al mondo. La storia tra l'imprenditore e la top model era gifinita. Flavio, dunque, non ha mai riconosciuto la bambina. La stessa Leni, qualche anno dopo, stata poi adottata da Sille. Nuovo e attuale marito di Heidi. Lo stesso Briatore a raccontare il percorso attraverso il quale ha deciso di affidare la sua figlia naturale a un altro uomo. Una scelta della quale oggi, a quanto pare, non si pentito, Briatore con Heidi Clums. Ho una figlia di 11 anni avuta da Heidi Clum. Ma ora la figlia di suo marito Sille. Leni la mia figlia naturale. Ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui. Perci un bambino deve crescere in una famiglia. Per la frequento, io, Sille e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale. Nata quando ci eravamo gi lasciati. Heidi viveva a Los Angeles. Io a Londra. La distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno. Ma non bastava. Poi un neonato deve stare con la madre. Heidi si messa con Sille e lui LH ha cresciuta. Difficile sentire la mancanza di un figlio che non hai mai vissuto. E so che non una figlia abbandonata. Leni, la famiglia di Sille. Nata nella mia. Leni sa che io sono il suo pap naturale ed una bambina molto intelligente. Falco non sa nulla. Per ora, le ammissioni di Briatore dopo le ammissioni sulla parentela con la piccola Leni. Briatore ha parlato anche del suo ringiovanimento fisico. Sono passati mesi di discussioni sull'argomento. Nel corso dei quali il dietologo alberico L'M è diventato noto in tutta Italia. Ora L'M è conosciuto infatti come l'uomo che ha operato la trasformazione di Flavio Briatore. L'imprenditore, dal canto suo, ha dunque ammesso di aver fatto un ritocco al viso. Tale piccolo ritocco sarebbe avvenuto, probabilmente nel periodo successivo alla dieta che gli ha consentito di perdere 17 chili. L'M mi ha dato una dieta. LHO seguita e ho perso 15 chili. Poi lui è andato in tv da Barbara D'Urso e ci ha marciato parecchio. Il ritocco. Ero grasso. Avevo il doppio mento. Sono intervenuto appena. Ma non chirurgia. Mi hanno messo un filo sul contorno viso. Come una fascia da tennista sotto pelle e che tira sui tessuti. Non ho neanche una cicatrice. Medicina estetica. Briatore altro su MSN. Briatore Gregoraci. Amore finito. Mediaset. Sponsorizzato. Maggiore maggiore. Scopri come condividere una sola sottoscrizione Office 365 su 5 pc e 5 tablet. Ora in omaggio due mesi gratis. Leggi i dettagli e scarica subito.